Per un cristiano la cosa più importante è l'incontro continuo con il Signore, stare col Signore. E così abituati a stare con il Signore della vita, ci prepariamo all'incontro, a stare con il Signore nell'eternità. E questo incontro definitivo verrà alla fine del mondo, e che viene anche ogni giorno, perché con la Sua grazia possiamo compiere il bene nella nostra vita e in quella degli altri. Il nostro Dio è un Dio che viene. Non dimenticatevi questo. Dio è un Dio che viene, continuamente vieni. Egli non delude la nostra attesa, mai delude il Signore. Ci farà aspettare, forse. Ci farà passare qualche momento nel buio per maturare la speranza nostra. Ma mai delude. Il Signore sempre viene. Sempre è accanto a noi. Dalle volte non si fa vedere, ma sempre viene.